Cosa eravate tre anni fa? Cosa sarete tra dieci? Cosa siete sempre stati in fondo al vostro cuore? Io sono un grafico! Piripiello, vieni! Quante volte glielo devo dire? Mi chiamo Priel! Eh, ma si chiunque cagnata io un altro! Sono convintissimo che quest'ultimo sforzo incontrerà senz'altro i suoi gusti Questa è il contest del secolo! Tu ti iscrivi al sito, posti un messaggio e loro te lo mandano nello spazio Sei qui per un colloquio di lavoro Teletrasporto! Sono stato robito dagli alieni! Facci il caffè per tutti e tre! Mi hanno assunto come grafico nello spazio! Una figata pazzesca, proprio la dovevi vedere! Andiamo a fargli il culo! C'è una cosa che devo dirti da tanto, tantissimo tempo Comprare una rosa? No, grazie, siamo fratello e sorella Anche io ho sposato mia sorella Io ho regalato mille fiori Perugio Triggo... Grazie a tutti.